Buonasera a tutti, buonasera a tutte, benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo Adolescenza e Covid che stiamo organizzando in collaborazione con Franco Angeli. Questa sera, come sapete, parleremo di relazioni affettive e sentimentali in adolescenza durante questo particolare periodo Covid e lo faremo in compagnia della professoressa Emanuela Confalonieri che saluto e ringrazio. Buonasera, grazie a voi. Per la presenza e il contributo. La professoressa Confalonieri è professoressa di psicologia dell'adolescenza all'Università Cattolica di Milano, è direttrice dell'unità di ricerca in psicologia scolastica e collabora con il Centro di ricerca sulle dinamiche evolutive ed educative del Dipartimento dell'Università Cattolica di Milano. Allora, come sapete, passeremo un'ora assieme. La prima parte, diciamo i primi 40-45 minuti, la professoressa Confalonieri ci parlerà un po' del topic di questa serata e dopodiché nella seconda parte dell'incontro avremo il question time in cui potrete trovare, proporre domande, riflessioni e ci confronteremo assieme. Come sempre, una piccola ma importante cortesia tecnica. Sulla piattaforma Zoom è presente lo spazio di chat all'interno del quale potete postare domande rispetto ad eventuali problematiche tecniche laddove vi fossero, mentre per le domande inerenti al contenuto del webinar vi preghiamo di utilizzare come sempre il bottone DER, domande e risposte, perché ci rimane molto più ordinato da gestire. Come sempre, da domani o poco più al massimo, troverete poi il video disponibile su FCP e eventualmente, se è possibile, già lo chiedo alla professoressa, avere anche le slide. Certo, assolutamente sì. Almeno alleghiamo anche quelle in modo che potrete tornare a rivederlo, comunque scaricarvi anche le slide. Non rubo ulteriore spazio, professoressa, le lascio parola, buon lavoro a lei e a tutti. A dopo. A dopo. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Ringrazio nuovamente chi ha organizzato questo interessante, non lo dico perché ci parlo io, ma perché mi hanno preceduto e parleranno colleghi importanti ed esperti davvero su tanti aspetti. Io credo, lo commentavamo prima col collega, che sia davvero importante parlarci e parlare sempre di adolescenti, ma farlo soprattutto in questo periodo. Perché forse sono davvero la fascia che maggiormente sta, insieme ad altre, comunque che di sicuro sta molto soffrendo e patendo rispetto alla situazione. E riuscire anche noi a dare voce a quello che stanno vivendo, credo che sia un compito importante. Allora, io parto condividendo lo schermo e le mie slide e augurandomi che poi tutto funzioni. Allora, il titolo voleva essere anche già, diciamo, un titolo evocativo in qualche modo. Innamorarsi ai tempi della pandemia, quando anche l'amore diventa difficile, stante quindi una difficoltà forte su tanti aspetti, fra cui anche quello di queste relazioni. Prima di dirci e di raccontarvi un po' che cosa, qualche riflessione proprio in merito specificamente a quello che sta accadendo, a queste relazioni in questo momento, volevo soffermarmi su quello che, scusatemi che tolgo perché eccoci, forse così è un po' meglio, su quello che sono le relazioni sentimentali in adolescenza. Nel senso che se da una parte il tema dell'amore e dell'innamoramento in adolescenza è sempre stato presente in tipologie anche ed espressioni differenti. È un'esperienza comune, ci siamo tutti innamorati, abbiamo iniziato ad innamorarci in questo periodo della nostra vita. È un'esperienza universale, ovunque si sia, in qualsiasi tempo si sia abitato, è un tipo di esperienza che abbiamo fatto. È un'esperienza che porta con sé moltissime emozioni, che ha molto a che fare, come vedremo, con la propria costruzione identitaria, ha a che fare con tante emozioni positive, ma ha a che fare anche, purtroppo, anche in adolescenza con tante emozioni negative, dalla delusione alla gelosia al tradimento, ma anche, purtroppo, possono trovare spazio all'interno della coppia adolescenziale anche delle situazioni di violenza vera e propria. Queste sono caratteristiche delle relazioni sentimentali a qualsiasi età, presenti quindi anche in quelle adolescenziali, come vedremo, si presentano però con delle sfumature, con delle intensità e con delle caratteristiche diverse a seconda, appunto, di quella che è l'età in cui stiamo sperimentandole. Di solito queste prime esperienze nascono all'interno del proprio gruppo amicale, nascono sui banchi di scuola, nei gruppi con cui condividiamo, con cui gli adolescenti, i preadolescenti condividono delle attività extrascolastiche, possono sfociare in vere e proprie relazioni o possono rimanere a volte anche semplicemente nell'immaginario del preadolescente o dell'adolescente ma essere comunque molto importanti e sono soprattutto una palestra, un'anticamera, diciamo così, delle relazioni future e questo è un primo aspetto importante. Il come vengono vissute queste prime esperienze ricade profondamente nella qualità e nella caratterizzazione anche delle esperienze sentimentali future. Quindi in qualche modo anticipo un aspetto importante su cui tornerò parlando poi di un costrutto particolare che è quello della competenza romantica. Quanto più saranno state delle buone relazioni, non necessariamente solo relazioni felici intendiamoci, ma delle buone relazioni, tanto più questo consentirà, diventerà un fattore di protezione anche rispetto alle relazioni future, nel senso di rendere l'adolescente capace e competente di vivere bene anche le relazioni successive. Un primo aspetto su cui volevo soffermarmi è relativo al fatto che le relazioni sentimentali e l'interesse dal punto di vista proprio scientifico, della comunità scientifica per queste relazioni è di fatto recente e questo è un aspetto interessante perché è diventato oggetto della ricerca, oggetto della comunità scientifica soltanto nel momento in cui si è superata una concettualizzazione forse maggiormente condivisa e classica delle relazioni sentimentali in adolescenza. cioè queste relazioni fino a una ventina di anni fa erano considerate legami frivoli, passeggeri, superficiali, così venivano definite anche nella letteratura, anche nei film se ci pensate e tendenzialmente disgiunti dalla sessualità. Ecco, questa concettualizzazione è stata superata avendo colto, avendo studiato e avendo scoperto che in realtà per quanto possano essere ancora definite dei legami frivoli, passeggeri, superficiali, vanno a costituire in realtà un importante aspetto dell'adolescenza, fanno profondamente parte della vita sociale degli adolescenti e vanno quindi a costituire insieme ad altre un'esperienza che va a impattare sulla qualità della vita dell'adolescente, vanno ad impattare sul benessere psicosociale dell'adolescente e quindi hanno un'influenza significativa proprio su quella che è la costruzione identitaria dell'adolescente stesso. Ma che cosa sono queste relazioni sentimentali? Come potremmo definirle? Allora, una relazione sentimentale è un legame, può essere definito come un legame instabile, volontario, caratterizzato da comportamenti di reciproco riconoscimento, connotate da una dimensione affettiva specifica con espressioni sia fisiche che nel tempo sessuali. Allora, sono dei legami instabili che vuole dire che come nascono possono morire, possono interrompersi e la rottura della relazione sentimentale è un compito importante in qualsiasi fascia di età, ma lo è in particolare durante l'adolescenza, quando ben sappiamo che tutto ciò che va a rompere in qualche modo una continuità viene vissuto con un'intensità emotiva molto molto forte. Sono legami volontari, quindi io scelgo di stare con una persona, scelgo di avviare e costruire una relazione con una persona e questo è un altro aspetto importante che deve essere sempre presente, ma che in realtà anche già nelle relazioni adolescenziali non è sempre presente, a volte gli adolescenti vivono delle relazioni con uno squilibrio di potere anche molto molto forte, squilibrio di potere che può portare quindi a subire una relazione magari iniziata anche intenzionalmente, volontariamente, ma che nel corso del tempo si vorrebbe interrompere e che essendoci tutta una serie di aspetti, di caratteristiche, l'adolescente fa fatica e ha paura di interrompere. Sono dei legami caratterizzati da comportamenti di reciproco riconoscimento, quindi legami che dovrebbero basarsi appunto su una simmetria di potere dove io mi riconosco e riconosco me stesso nel relazionarmi con l'altro, ovviamente connotate da una dimensione affettiva e nel corso del tempo da anche un coinvolgimento fisico e sessuale. Quali sono un po' le funzioni di una relazione sentimentale e dicendo queste funzioni andiamo proprio a confermare l'importanza e il ruolo che queste relazioni hanno nel percorso di costruzione identitaria in anno, in atto. Sono delle relazioni che consentono di sperimentarsi in un modo, di sperimentarsi dal punto di vista relazionale, in un modo differente rispetto a quello che facciamo con gli amici e a quello che facciamo con i genitori. Quindi c'è tutta una letteratura che ci racconta di come queste relazioni presentino delle similitudini, presentino delle similarità con le relazioni amicali e con le relazioni genitoriali, ma presentano anche delle differenze e quindi nell'avviare queste relazioni, nell'iniziarsi a esperienze di tipo sentimentali, gli adolescenti hanno la possibilità di sperimentarsi, di conoscersi, di scoprirsi più o meno competenti in un'area relazionale, in una dimensione relazionale che, come dicevo, pur presentando delle similarità con quelle amicali e con quelle genitoriali, se ne differenzia e se ne distacca. Vero è che quanto, diciamo, migliore è stata la qualità delle relazioni vissute con i propri genitori e delle relazioni che si vivono con i propri amici, tanto più si sono sviluppate delle competenze che saranno utili anche per le esperienze sentimentali. Quindi, da una parte, c'è una discontinuità rispetto alle relazioni amicali e alle relazioni con i propri genitori, ma vi è anche una continuità con esse in riferimento a quelle di tipo sentimentale. Contribuiscono ed influenzano la costruzione dell'autostima in senso globale. Riuscire ad avere una relazione, un ragazzo, un fidanzato, un partner, aumenta la propria autostima. Questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, che facciamo anche da adulti. sapere di essere amati, scoprire di piacere all'altro, sentire che si è di supporto all'altro, va fortemente a contribuire ad un'immagine di sé positiva e quindi anche ad aumentare la propria autostima, il proprio senso di autostima. Un'altra funzione specifica delle esperienze sentimentali nel periodo adolescenziale è che consentono, supportano, non sono evidentemente l'unica esperienza che consente questo, ma supportano il processo di separazione e individuazione dalla famiglia d'origine. Sappiamo quanto nel periodo adolescenziale sia fondamentale saper affrontare e superare positivamente il secondo processo di separazione e individuazione, che mi porterà ad essere quel giovane adulto e poi quell'adulto che sarò, ma sappiamo come questo processo, quando avviene nel periodo adolescenziale, significa in particolare sapersi e riuscirsi a separare ed individuare rispetto alla propria famiglia d'origine. Ecco, se si vivono delle buone relazioni amicali e se si vive una buona relazione sentimentale o delle buone relazioni sentimentali, queste relazioni aiutano e sostengono questo processo di separazione e individuazione. Separarmi dai miei genitori, individuarmi rispetto a loro, sarà meno faticoso, meno difficile, meno impaurente nel momento in cui lo faccio avendo una relazione sentimentale, potendo contare su un partner che va in qualche modo a sostituire, a colmare quel qualche cosa che mi viene a mancare o che si sta fortemente modificando nei riguardi delle relazioni che ho con i miei genitori. Inoltre, sicuramente consentono di iniziare a sperimentarsi, ad esplorarsi dal punto di vista della sessualità a fronte dell'avvenuto sviluppo fisico-corporeo e dello sviluppo buberale e dell'avvenuta maturazione dei caratteri sessuali secondari che mi portano ad una sessualità adulta e all'interno di queste prime relazioni sentimentali ho l'occasione di sperimentarmi e di apprendere proprio in relazione a questi aspetti. Credo sia importante soffermarsi un momento a riflettere ai significati e alle sfide che vivere queste relazioni sentimentali nella contemporaneità, nella modernità, porta con sé. Questo perché rispetto forse al compito di acquisizione di un'identità di genere e di un'identità sessuale e a quello che questo compito significava fino a qualche decennio fa, diciamo che il lavoro di definizione di sé in relazione appunto all'appartenenza di genere e alla propria sessualità negli ultimi decenni avviene in un contesto socioculturale più complesso, in un contesto socioculturale dove vi sono più modelli a cui l'adolescente può rifarsi e l'adolescente vive in contesti che lo sollecitano in modo complesso e a volte anche contraddittorio. Quindi il compito che l'adolescente ha di scoprirsi sessualmente adulto, il compito che l'adolescente ha di individuarsi dal punto di vista del genere e della propria identità oltre che di genere anche sessuale avviene in un contesto che è andato complessificandosi. Sono per esempio mutati i modelli che regolano i comportamenti sessuali per cui sicuramente rispetto a quello che avveniva nel secolo scorso e già anche negli ultimi decenni del secolo scorso, gli adolescenti hanno modificato il loro modo di avvicinarsi alla sessualità, di conoscerla, di pensarla e di viverla. Questo ha portato a un mutamento verso lo stesso atteggiamento nei confronti della sessualità, se dunque passati da una morale che era più di tipo pubblico, che era più di tipo valutativo, che era maggiormente condivisa a livello sociale e culturale, ha delle morali sempre più private e relativistiche. Questo ha significato avere degli adolescenti più liberi, più informati rispetto ai temi legati alla sessualità, ma dove l'essere maggiormente informati, l'essere maggiormente liberi, non significa, to cure, l'essere più competenti nell'affrontare quelle che sono le sfide, dei compiti legati all'affettività, alla sessualità, alle relazioni appunto di tipo sentimentale. Sicuramente quindi questi mutamenti hanno significato per gli adolescenti e anche già per i preadolescenti sentire di poter parlare della sessualità, sentire di poter parlare delle prime e del poter provare e di vivere queste prime esperienze in modo più libero, in modo meno valutato, meno giudicante, dove quindi si parla di sesso, si parla di sessualità molto prima, in modo molto più condiviso di quanto non avvenisse una volta. Però noi sappiamo di come crescere non significhi crescere soltanto in una dimensione, ma si cresce dal punto di vista fisico-corporio, ma si deve crescere e maturare anche dal punto di vista cognitivo ed emotivo. E non sempre questi processi di crescita e di sviluppo avvengono all'unisono, avvengono con la stessa tempistica. Allora avere questi adolescenti più liberi, più informati, non significa avere degli adolescenti più competenti, e quindi le esperienze sentimentali possono essere assolutamente delle esperienze votate al benessere, ma possono diventare, proprio perché non sempre vi sono tutte queste competenze, possono portare anche con sé delle criticità e possono quindi anche sfociare in comportamenti a rischio. Quello che si è notato a fronte di questi mutamenti, a fronte di questi cambiamenti, è che gli adolescenti hanno rapporti sessuali più precoci, più precocemente rispetto a quello che avveniva una volta. Spesso vivono rapporti con partner differenti anche contemporaneamente, ed è una frequenza maggiore rispetto ad una volta nel cambiare il proprio partner. Quello a cui si è assistito viene spesso chiamato una sorta di normalizzazione del sesso e della sessualità, qualche cosa che è quindi ora molto più accessibile, molto più condivisibile, ma appunto questo aspetto non necessariamente significa che quell'unione fra affettività e sessualità sempre e comunque vada a caratterizzare le esperienze sentimentali degli adolescenti. Spesso l'avvicinarsi a queste esperienze può significare più il vivere queste esperienze in un'ottica più di viverle più come una questione tecnica e di sperimentazione, che non di effetto, di reale affetto e di reale emozione. Scusatemi, anche qui si è bloccata. Ok, uno dei modelli più riconosciuto a livello scientifico, che ha cercato di spiegare come evolvono nel periodo adolescenziale le relazioni sentimentali, che caratteristiche differenti assumono nel corso appunto dell'adolescenza queste relazioni, è il modello di Furman e Wenner, che si rifà in particolare alla relazione di attaccamento come modello un po' di riferimento e che conosce quattro stadi. Tendenzialmente anche gli altri modelli si sviluppano riconoscendo ed individuando quattro fasi. Si parte, diciamo così, ad uno stadio che viene definito delle semplici interazioni e che in realtà corrisponde al momento dello sviluppo puberale, potremmo dire al periodo pre-adolescenziale, dove ci si inizia a frequentare con più assiduità, con maggiori occasioni di farlo anche fuori dalla scuola, anche fuori da contesti strutturati, da gruppi formalizzati, con pari del sesso opposto. Quindi si creano i primi gruppi misti e all'interno di questi gruppi iniziano a nascere i primi interessi, le prime passioni, i primi innamoramenti. C'è poi lo stadio definito del casual dating dove si avviano le prime relazioni a breve termine che soddisfano quello che viene chiamato un bisogno di affiliazione, cioè sostanzialmente in realtà ho bisogno di capire di piacere all'altro e quindi sono delle relazioni più funzionali, assolutamente più funzionali, a farmi stare bene, a farmi scoprire delle caratteristiche personali che non a svolgere un ruolo che risponda a dei bisogni di coppia. Questi bisogni di coppia compaiono nel terzo stadio, quello delle relazioni stabili, siamo nella piena adolescenza, dove quindi compaiono anche dei veri ed effettivi bisogni di intimità e dove accanto a questi bisogni di intimità, di vicinanza e di supporto appaiono anche quelli che sono dei veri e propri bisogni di sessualità e di affiliazione. Si arriva poi al quarto stadio che è quello delle relazioni impegnate dove siamo nel passaggio dal periodo adolescenziale all'età del giovane adulto, dove quindi compaiono effettivamente la dimensione del prendersi cura, la dimensione dell'impegno e la capacità di rispondere ai propri bisogni, ma anche evidentemente ai bisogni emotivi del partner. Quindi diciamo che molto sinteticamente le prime relazioni in adolescenza sono delle relazioni funzionali, in qualche modo egoistiche potremmo dire, funzionali a farmi stare bene. Quindi decido di stare, di mettermi con l'altro e sto con l'altro fino a che stare con l'altro mi serve, fino a che stare con l'altro mi fa stare bene. Nel momento in cui questa funzione viene a mancare, passo ad una relazione successiva, interrompo questa relazione e vado a cercare altrove la risposta a questi bisogni. Mano a mano che cresco, pur rimanendo all'interno nel periodo adolescenziale, ecco che inizia ad essere maggiormente interessato anche a come sta l'altro, sono maggiormente in grado di cogliere elementi che caratterizzano l'altro, i suoi bisogni, e quindi la relazione diventa, si avvicina come fisionomia e assume come fisionomia una fisionomia sempre più simile a quella delle relazioni fra adulti. Qua vi ho riportato alcune caratteristiche, alcuni dati, diciamo così, tratti da ricerche fatte dal mio gruppo che si occupa da anni del tema appunto delle relazioni sentimentali in adolescenza. Qui era un gruppo di più di mille adolescenti fra i 14 e i 19 anni. Fra questi adolescenti, il 70% aveva avuto o aveva attualmente o aveva avuto negli ultimi sei mesi una relazione sentimentale che ci racconta della grande, di come sia un'esperienza che effettivamente fanno la maggior parte degli adolescenti. La durata media di queste relazioni era di circa dieci mesi, per cui sì, relazioni non lunghe, ma neanche relazioni troppo corte, laddove dobbiamo tenere presente che anche la dimensione temporale per gli adolescenti è una dimensione temporale differente dalla nostra, per cui se tu chiedi ad un adolescente ma la tua, stai da tanto con questo tuo ragazzo, ragazze, eccetera, sì, beh, sì, è una relazione lunga, cioè, beh, stiamo insieme già da tre mesi. Chiaramente non sono i nostri tre mesi, sono i tre mesi di un adolescente. Quindi, se la durata media di questa relazione è dieci mesi, ci racconta di relazioni che loro percepiscono come stabili, di relazioni che loro percepiscono come significativi. Tendenzialmente, le ragazze hanno relazioni più durature e tendenzialmente le hanno con partner più grandi e quindi ci sta che siano relazioni da questo punto di vista più lunghe e tendono ad attribuire una maggiore importanza alla relazione rispetto ai coetanei maschi. Più facilmente nelle relazioni le adolescenti investono maggiormente e vi colgono dimensioni affettive più significative di quanto non facciano i ragazzi. Con l'età, quindi passando dalla prima adolescenza alla tardo adolescenza, queste relazioni diventano più lunghe e vengono dotate di un significato maggiore e all'interno di questo nostro campione il 50% aveva già avuto dei rapporti sessuali e l'età media del primo rapporto sessuale è da collocarsi intorno ai 15 anni. L'80% aveva utilizzato un metodo contraccettivo al primo rapporto e questo primo rapporto sessuale era stato fortemente voluto dal 50%. Allora, ci sono luce e ombre tendenzialmente, io non entro adesso nel dettaglio, magari grazie anche alle vostre domande capiremo meglio le caratteristiche di queste relazioni. Nella parte destra ho riportato delle frasi che sono tratte dai focus group che abbiamo fatto e che facciamo periodicamente con gli adolescenti. Questa adolescente ci dice che da una parte hai una persona che ti può completare, dall'altra parte invece non è essenziale avere una relazione, perché comunque anche le amiche ci sono, le persone a cui puoi rivolgerti se ti vuoi sfogare. Questo racconta un po' di quello che dicevamo presentando il modello di Furman e Revener, cioè nell'adolescenza queste relazioni iniziano ad acquisire un'importanza, ma gli amici continuano a mantenere un'importanza fondamentale. Per me è stato importante, perché mi ha aiutato in tante cose, quando stavo male, ad esempio, c'era lui. Ma andiamo oltre. Un costrutto che volevo condividere con voi è quello della competenza romantica, è un costrutto che dobbiamo a questa collega americana, Joan Davila, che circa una decina di anni fa ha iniziato appunto a tematizzarlo e che ha molto a che fare con le relazioni sentimentali e con la qualità delle relazioni sentimentali in adolescenza. Davila ci dice che la competenza romantica è quell'insieme di abilità cognitive, emotive e sociali che consentono all'adolescente di affrontare in modo adattivo l'esperienza sentimentale. Dicevo prima, per lo più le esperienze sentimentali in adolescenza sono esperienze che vanno a far star bene l'adolescente, ma possono anche purtroppo avere degli esiti non così funzionali, non così adattivi. Allora, quelle che trovate sono alcuni degli ingredienti che sembrerebbero contribuire a rendere buona una relazione, a dare qualità ad una relazione. Per esempio, essere competenti dal punto di vista romantico significa saper pensare alle relazioni nella loro reciprocità, sapendo bilanciare intimità e individualità. In un momento in cui l'adolescente sta cercando di scoprire chi è, non sempre questo compito, questa competenza la riesce a mettere in gioco. Per cui spesso confonde l'intimità con l'eccesso di intimità come un qualche cosa di positivo che va in realtà a impedirgli di farsi rispettare, che va ad impedirgli di riuscire ad esprimersi, scusate, mi lascio passare l'ambulanza, con le proprie caratteristiche, con le proprie autonomie. Quindi, riuscire a bilanciare bene l'intimità col partner, ma mantenendo contemporaneamente la propria individualità e la propria autonomia è una competenza che in adolescenza, come nelle altre età della nostra vita, si dovrebbe riuscire ad avere all'interno delle relazioni sentimentali, ma che può venire a mancare. Un'altra competenza è quella di saper apprendere dall'esperienza passata. Se ho vissuto un'esperienza dove la gelosia è stata principe, dove sono stato sottoposto a delle angherie, dove l'altro non mi ha fatto stare bene, ecco, apprendere dall'esperienza significa andare a cercare un'esperienza che avrà delle caratteristiche diverse e che mi farà stare in un modo diverso. Spesso invece l'adolescente, come dire, si ritrova in un'esperienza, a vivere un'esperienza assolutamente simile, in chiave non adattiva, a quella precedente. Un'altra competenza ci racconta del saper prendere delle decisioni che mi consentono effettivamente di arrivare a quegli obiettivi che io mi sono prefissato e dove queste decisioni dicono di un'attenzione, di una cura sia a me, sia al mio partner. Un'altra competenza è quella del riuscire a pensare alle relazioni in ottica di insight, cioè dove io sono consapevole dei miei bisogni, sono consapevole dei miei desideri, ma altrettanto riesco a vivere questa relazione nella consapevolezza anche dei bisogni e dei desideri del mio partner. E infine c'è tutto il tema della regolazione emotiva, su cui gli adolescenti forse fanno davvero e forse l'aspetto su cui fanno più fatica, nel senso che io all'interno della relazione devo imparare a controllare e a regolare e a regolare le mie emozioni e il mio sé in relazione all'esperienza romantica. Questo vuole dire saper tollerare gli imprevisti, saper tollerare gli eventi non desiderati, evitare di ruminare su ciò che il partner mi ha detto, su ciò che è accaduto e quindi stare ore e ore a pensare ai diversi significati, alle diverse letture, a come diversamente la situazione sarebbe potuta andare, continuando a mantenere dei buoni livelli di autostima. Joan Davida traduce poi questa competenza in quattro dimensioni che possono essere poi appunto individuate, misurate, su cui si può andare a lavorare, che sono quelle della mutualità, dell'insight, dell'apprendimento, della regolazione emotiva. Quando in una relazione io riesco ad essere competente su tutte e quattro queste dimensioni, questo essere competente non implicherà che io viva soltanto esperienze relazionali e sentimentali positive, ma mi renderà capace di affrontare anche quei momenti di crisi, di sfiducia, di conflittualità, di gelosia, con tutte le varie componenti che sappiamo possono caratterizzare le relazioni sentimentali. Quindi essere competente ovviamente non significherà che vivrò soltanto relazioni positive, ma mi metterà in grado laddove ci fosse una situazione stressante, laddove ci fosse qualche cosa che non sta funzionando nella relazione, di mantenere comunque la mia autostiva, di sentirmi comunque una bella persona, di mantenere comunque dei buoni livelli di benessere, quindi di riuscire a rispondere in maniera adattiva comunque anche alla situazione non positiva dal punto di vista sentimentale che sto vivendo. Velocemente, prima di andare a raccontare dunque che cosa è accaduto e sta accadendo ai nostri adolescenti e alle loro relazioni sentimentali nel momento della pandemia, ricordo semplicemente che purtroppo anche all'interno delle relazioni sentimentali e adolescenziali possiamo avere dei comportamenti non adattivi, per esempio l'aggressività e quindi la conflittualità e la presenza di comportamenti aggressivi all'interno anche delle relazioni sentimentali e adolescenziali è purtroppo una realtà. Anche qui sono dei dati di ricerca, il 50% del nostro campione dichiarava di aver agito o subito più volte comportamenti di abuso psicologico, la violenza all'interno della coppia adolescenziale può essere legata, può avere diverse tipologie per cui abbiamo l'abuso psicologico, quello fisico e quello relazionale, quello psicologico e quello più presente, mi fidavo di lui ma mi sentivo controllato, non potevo uscire con i miei amici perché dovevo stare sola con lui, qualche volta mi ha dato anche uno schiaffo, era un periodo duro per lui, io per questo lo giustificavo e volevo continuare a stare con lui nonostante tutto. Vedete come ritornano quegli aspetti che abbiamo tradotto prima in termini di competenze e qui sembrano invece non essere presenti e quindi, come dire, far rischiare a questa adolescente di rimanere all'interno di una relazione che di sicuro non la farà stare bene. L'adolescent dating violence, quindi la presenza di violenza all'interno delle coppie adolescenziali, cresce con l'età, quindi è già presente anche nella prima adolescenza ma aumenta con il crescere dell'età, aumenta con la durata della relazione, quindi possono essere presenti episodi di violenza più spesso laddove la relazione dura da più tempo. riguarda ugualmente sia i maschi che le femmine, quindi noi possiamo trovare vittime e perpetratori di violenza all'interno delle coppie sentimentali adolescenziali sia nei maschi che nelle femmine e va a caratterizzare quelle relazioni con una qualità bassa, quindi quanto più viene percepita come buona la qualità della relazione, tanto meno avremo presenza di violenza fra i minori, fra gli adolescenti. Molto velocemente ho dunque tratteggiato quello che accade nelle relazioni sentimentali sia nel positivo che molto molto velocemente nel negativo ma davvero grazie magari alle vostre domande poi ci ritorniamo sopra. Ho cercato di dire del significato e della funzione importante che queste relazioni hanno nel periodo adolescenziale che cosa è avvenuto in questo periodo pandemico rispetto a queste relazioni. Possiamo fare una distinzione fra ciò che è avvenuto a quegli adolescenti che già prima della pandemia e del lockdown vivevano una relazione sentimentale e quegli adolescenti che non la vivevano. Tenete presente che quanto vi racconto è legato in parte alla ricerca ma solo in parte perché come potete immaginare iniziano ad esserci adesso i primi esiti e i primi risultati delle ricerche. Il resto deriva da focus group che abbiamo fatto con gli adolescenti e da quello che arriva un po' dalla condivisione a livello di comunità scientifica di esperienze che gli psicologi hanno nel loro lavoro con gli adolescenti. Allora avere essere insieme a qualcuno durante la pandemia ha significato minori sintomi di depressione e di stress rispetto a chi questa relazione non l'aveva. Ha significato anche per molti adolescenti percepire come la relazione diventasse più importante e diventare più consapevoli di quello che effettivamente a livello di supporto a livello di condivisione e di aiuto il partner o la partner mi potevano dare. molti adolescenti sono rimasti aggrappati si sono aggrappati alle loro relazioni sono riusciti nonostante la distanza a rimanere in connessione e sono riusciti anche ad aumentare a sviluppare un senso di intimità e di vicinanza di coppia quindi le relazioni venivano percepite come più solide più soddisfacenti anche in confronto a quando la stessa relazione era vissuta senza le restrizioni e senza il distanziamento ho capito che è difficile stare lontano dalla mia ragazza e mi impegnerò di più nel futuro la distanza mi ha fatto capire quanto tengo a noi due e alle cose che facciamo insieme ma attenzione se questi sono dei risvolti positivi che ci hanno raccontato e che hanno percepito e vissuto gli adolescenti che già avevano questa relazione che sono riusciti a mantenerla anche durante questo periodo abbiamo anche dei racconti e delle situazioni di adolescenti che avevano questa relazione romantica precedente al lockdown o comunque alla pandemia ma che in realtà ci raccontano qualche cosa di un po' diverso ovvero che è stato molto difficile mantenere queste relazioni è stato stressante è stato confondente ci sono stati tanti adolescenti che ci hanno che hanno raccontato di sentimenti di isolamento dal partner di non essere riusciti a superare la perdita del contatto fisico e quindi di relazioni che si sono alterate a causa della distanza a causa di frequentazioni altalenanti il fatto che il connettersi e poter comunicare dipendesse totalmente dalla tecnologia da parte come dire è stato un vantaggio quindi bene che ci fosse la tecnologia dall'altra parte è stato un problema perché la tecnologia in realtà non rendeva facile per alcuni adolescenti rende quasi impossibile esprimersi a livello emotivo durante le conversazioni e quindi sono cresciuti i conflitti sono cresciuti le discussioni l'aspetto appunto della conflittualità è aumentato in molte di queste coppie molti adolescenti gli adolescenti segnalano anche la mancanza di stimoli esterni quindi l'andare fuori a cena il potersi vedere quindi tutto lo stimolo esterno che è un ingrediente della vita di coppia ecco il mancare di questi ingredienti è andato un po' a inaridire o a inasprire la vita della coppia per cui si è assistito a rotture di relazioni sentimentali che erano nate pre-covid anche perché si è avuto più tempo per riflettere più tempo per pensare e dunque forse per accorgersi di aspetti che non funzionavano già prima che si sono esasperati o che sono emersi che hanno raggiunto la luce del sole grazie diciamo così all'esperienza di distanziamento che è stata vissuta è più facile è più difficile comunicare la mancanza del partner è forte e dà origine a incomprensioni ci siamo staccati emotivamente uno dall'altro non abbiamo lavorato per mantenere forti e profondi i nostri sentimenti quanto vi sto dicendo va a confermare di nuovo quello che ho detto in apertura non sono legami frivoli non sono legami superficiali questi ragazzi quando le relazioni hanno funzionato hanno tratto un grande vantaggio e grandi ci sono state ripercussioni positive sul loro benessere ma nello stesso tempo proprio perché erano relazioni vere nel momento in cui sono emerse con più forza delle caratteristiche negative o delle caratteristiche che erano rimaste un po' più sottotraccia finché ci si era potuti frequentare nel mondo altrettanto hanno sofferto per la rottura di queste relazioni ci sono poi degli adolescenti che non avevano una relazione sentimentale precedente al periodo pandemico e anche loro hanno qualcosa da raccontare hanno segnalato di come chiaramente tutto questo gli sia fortemente mancato gli è mancato la possibilità gli è mancata l'occasione di conoscere innamorarsi sperimentarsi da questo punto di vista e sappiamo quanto il non poter esplorare il non poter sperimentare nel periodo adolescenziale vada ad impattare sulla costruzione identitaria si è assistito ad un aumento di conoscenze di incontri con persone conosciute online questo flirtare online è diventato un gioco fatto per divertimento fatto per noia con delle basse aspettative cioè pensando appunto che ritenendo che siano dei flirt che nascono lì e che moriranno lì uno dei rischi è che aumenti e lo si sta monitorando almeno noi anche con il nostro gruppo lo stiamo cercando di monitorare in questi mesi aumenti di comportamenti non corretti online in relazione alla sfera della sessualità e dell'intimità quindi un possibile aumento di comportamenti di sexting alcuni adolescenti raccontano come appunto un aver vissuto o un vivere una sorta di bolla di sospensione come un time out dalla vita reale e in generale laddove comunque qualcuno si era conosciuto una fatica a fidarsi perché questa conoscenza costruita online comunque non mi consentiva di arrivare a fidarmi dell'altro fino in fuori chiudendo che cosa ci racconta l'esperienza del lockdown rispetto alle relazioni sentimentali ribadisco quello che dicevo poco fa ha portato alla luce alcuni aspetti salienti di queste relazioni che questi giovani e giovanissimi stavano vivendo quindi il vivere un'esperienza stressante ha fatto sì che le relazioni che forse avevano una maggiore qualità che vedevano protagonisti dei giovani con maggiori competenze dal punto di vista romantico siano riusciti ad affrontare anche questo periodo mantenendo e anzi non solo mantenendo la relazione ma addirittura arricchendola addirittura rendendola più forte più profonda quelle relazioni che forse partivano con degli adolescenti caratteristiche di adolescenti meno competenti sono invece più facilmente esplose sono invece più facilmente saltate quindi anche come ben sappiamo gli eventi stressanti sono eventi che consentono di far capire quanto una persona è in grado di reggere il momento stressante quanto è in grado di tirare fuori le proprie risorse le proprie competenze e anche in questo caso quindi ci torna come una sorta di boomerang quell'aspetto su cui tanto stiamo cercando di lavorare anche con gli adolescenti in tema di relazioni sentimentali ovvero far sì che gli adolescenti siano attrezzati siano equipaggiati rispetto a queste competenze e che quindi questo essere equipaggiati e competenti gli consenta di vivere delle buone relazioni di qualità che contribuiscano al loro benessere e che contribuiscono alla loro costruzione identitaria grazie dell'attenzione speravo di stare più dentro i tempi come al solito grazie a lei sono andata un po' oltre no assolutamente ci stiamo e però partiamo subito con le domande che sono numerose e denotano come dire la presenza delle due variabili in questo in questo periodo che sono le limitazioni covid si uniscono alle nuove tecnologie creando situazioni ancora più importanti allora Erika chiede se ha un'idea una valutazione in merito al recente fenomeno del ghosting per i colleghi e le colleghe che non lo conoscessero appunto si tratta di queste in questo mondo iperconnesso di queste relazioni sentimentali che nascono e si sviluppano online e poi a un certo punto uno dei due scompare e blocca e attaglia qualsiasi canale virtuale di relazione sì allora questi sono dei fenomeni appunto molto molto recenti molto nuovi difficili da studiare per cui dati non ce n'è ce n'è pochissimi e sembrano riguardare persone un pochino più grandi quindi non sono tipicamente adolescenziali però di sicuro vanno a a raccontare di come le tecnologie stiano sempre in più influenzando dando delle fisionomie o arrivando appunto a tipicizzare in modi assolutamente nuovi anche le relazioni sentimentali io ci tengo sempre a dire che le tecnologie non sono il problema le tecnologie possono dare una forma a un qualche cosa che comunque la persona avrebbe trovato modo di esprimere altrimenti quindi questo lo dico perché cerco sempre di evitare di demonizzare no poi le tecnologie quindi le tecnologie danno espressione ad un disagio o ad una modalità comportamentale che se no avrebbe trovato un altro modo per esprimersi allora io credo che da questo punto di vista se da una parte le tecnologie possono essere un aiuto in una fase iniziale per esempio della relazione per conoscersi per superare magari delle timidezze per superare magari delle difficoltà che obiettivamente questo periodo ci ha fatto capire cioè allora rimango bloccato rimango congelato non faccio nulla no ci sono delle opportunità che le tecnologie mi danno ma sta a me utilizzare quelle competenze per riuscire a capire e gestire questo online questo virtuale in modo tale che come dire sia poi funzionale a me faccia stare bene me ed eventualmente sfoci poi in qualche cosa che potrò vivere anche al di fuori viceversa può diventare luogo di nascondimento luogo di sperimentazione ma assolutamente strumentale quando non manipolatoria per quelle persone che ripeto presentano delle caratteristiche loro che riescono ad esprimere attraverso le tecnologie ma che esprimerebbero comunque anche altrimenti per cui in questo senso il virtuale ci fa sentire molto più forti e quindi ci legittima dei comportamenti di nascondimento che nella vita reale non cioè difficilmente poi è vero che abbiamo delle storie dove le persone sono riuscite ad essere più persone anche te in tempi non di internet però come dire sono caratteristiche originarie che poi trovano questa espressione dicono di una fatica però a dire chi si è ecco quindi fenomeni come il ghosting ti dicono che mi mostro mostro di me solo quello che voglio e poi alla fine il disimpegnarsi l'uscire di scena è chiaro che è molto più facile di quando le cose le faccio mettendoci la faccia davvero sì 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 non si sa se le tecnologie poi sono una causa in effetto però sicuramente c'è una relazione fortissima nel facilitare o inibire queste dimensioni nel fare esplodere certe cose o nel non fare esplodere Aurora le chiede se dal suo punto di vista può esistere una relazione tra la presenza di comportamenti di abuso psicologico assenza di competenza romantica e l'emergere di comportamenti autolesionistici e di direzione suicidaria di cui tanto abbiamo parlato proprio nel primo incontro con il professor Nobili ma adesso così diciamo un collegamento diretto no non lo vedo tanto per meglio dire può essere che aumentino perché forse sono io che non ho colto bene la domanda allora diciamo che il distanziamento e quindi il vivere questo periodo di forte di forte stress può andare a esacerbare o a far esplodere un qualche cosa che se no magari sarebbe rimasto più contenuto per cui in una coppia dove comunque aspetti e comportamenti legati all'abuso verbale all'abuso psicologico quindi il controllare l'altro l'essere un po' intrusivo nella vita dell'altro essere a distanza dove quindi davvero io non so tu che cosa fai si è vero sei a casa ma che cosa fai in internet chi ascolti chi vedi eccetera eccetera non riesco a controllarlo può essere può essere che vadano ad aumentare così come eh l'aspetto della regolazione emotiva in presenza forse riesco meglio a spiegarti in presenza forse riesco meglio a chiarirmi eh una conversazione sempre mediata può far sì che le incomprensioni e quindi chi già non è tanto regolato emotivamente o fa più fatica a regolarsi emotivamente queste situazioni possono più facilmente esplodere anche da questo punto di vista quindi in un certo senso quelle coppie che erano che partivano già un po' meno competenti su questi aspetti può essere che li abbiano esacerbati in questo momento in questo periodo sì la collega Viviana invece chiede un suo parere circa l'aumento degli adolescenti che si definiscono bisessuali questo appunto non è giustamente collegato col periodo però è sicuramente un aspetto importante lo dicevo prima rispetto ad una volta i modelli di riferimento rispetto all'acquisizione di un'identità di genere di un'identità sessuale si sono sicuramente molto complessificati molto moltiplicati anche semplicemente quindi questo compito è diventato un compito più complesso io quello che dico sempre è che noi dobbiamo garantire all'adolescente un percorso volto a cercare davvero di capire chi è lui da questo punto di vista quindi dove l'arrivare o il permanere usciti dall'adolescenza in una situazione di indeterminatezza di bisessualità sia l'esito di un percorso non sia come dire dato dal fatto che è tutto possibile è tutto legittimo perché deve essere comunque una scelta deve essere comunque l'esito di un percorso ripeto di riflessione e di di consapevolezza che è stato fatto quello che dico anche è che è difficile farlo nell'adolescenza quando io mi sto ancora costruendo dal punto di vista identitario e quindi in adolescenza è anche abbastanza normale vivere confusioni vivere sentimenti di ambivalenza di ambiguità dove quindi davvero le domande sono tante deve essere il periodo dove cerco le risposte dove devo farmi aiutare se queste risposte faccio fatica a trovarle in modo tale che poi una volta che il mio percorso identitario la mia acquisizione identitaria è maggiormente strutturata sono maturato da più punti di vista ecco allora devo fare una scelta ma quel punto è una scelta che si basa su questo tipo di percorso quindi che probabilmente si collocherà nell'età più da giovane adulto che non adolescente dove davvero è tutto ancora in costruzione certo e le propongo la domanda di Laura che in realtà è stata insomma il concetto è stato toccato da diversi altri commenti Laura chiede se e come secondo la sua esperienza è possibile far percepire la relazione affettiva positiva come risorsa ad un adolescente che si dichiare annoiato e privo di emozioni in altri aspetti della sua vita in particolar modo nell'ambito dell'esperienza scolastica però ecco ci sono anche altri commenti che proprio sottolineano come dire come far riattivare i ragazzi che soprattutto in quest'ultimo anno come dire sembrano un assetto quasi di ritiro e di alienazione da quelli che erano gli interessi invece prima presenti e le strategie sia per il genitore che per il contesto scolastico che sono le due agenzie di riferimento questo è una domanda importante perché come dire come adulti che si sia genitori che si sia insegnanti ma anche che si sia psicologi io credo che ci dobbiamo proprio chiedere come aiutare questi adolescenti che già di loro tanti di loro starebbero un po' vabbè adesso non voglio riecheggiare per forza gli adolescenti distraiati ma come dire è del periodo adolescenziale anche prendersi grandi pause prendersi grandi tempi il problema è che qui sono stati legittimati a farlo perché la situazione li ha costretti in qualche modo e sento di tanti genitori che ci dicono dei figli che anche quando potevano uscire non uscivano che quando avrebbero potuto rivedere gli amici beh vabbè ma tanto non sarebbe la stessa cosa tanto poi magari ci richiudono tanto tanto quindi c'è davvero un rischio ad un isolamento ad un autoimposto perché poi adesso purtroppo siamo in zona rossa d'accordo però tendenzialmente abbiamo avuto dei mesi dove in realtà qualche cosa si poteva fare allora io credo che questa tendenza c'è e quindi questo rischio c'è si debba provare anche con le tecnologie o laddove si possa uscire a obbligarli un po' a ritrovare un piacere dello stare insieme perché questo piacere per loro è diventato un pericolo e quindi davvero vivono e stanno allora tu mi dici di uscire sì però poi devo tenere la mascherina devo rimanere a distanza non posso abbracciare a quel punto è meglio allora non farlo del tutto che è tipico dell'adolescente se non riesco a avere 100 allora io non voglio avere neanche il 20 allora qui l'adulto deve essere creativo deve provare a pensare a un qualche cosa di diverso rispetto a quello che si faceva prima perché l'altro grande secondo me errore che stiamo un po' facendo è aspettiamo che tutto torni come prima se noi diciamo questo agli adolescenti li perdiamo perché in realtà niente tornerà come prima noi dobbiamo dirgli ascolta come prima non sarà nulla cerchiamo però di capire comunque che cosa ti potrebbe far restare bene essendo noi propositivi se pensiamo alla scuola la scuola di sicuro con tutte le fatiche che ha fatto adesso io non è che voglia valutarla o portare un giudizio negativo che sarebbe molto banalizzante le complessità che ha dovuto vivere però una scuola che nella maggior parte della situazione non ha fatto nessuno sforzo di proporre una modalità di lezione differente da quella in presenza non funziona la scuola poteva le famose esperienze di classi capovolte che sono che c'erano anche prima questa era un'ottima occasione per dire agli adolescenti di preparare loro le lezioni per dire agli adolescenti di lavorare loro di presentare loro dei prodotti non di passivizzare ulteriormente ebbè questo è stato un grande sconvolgimento che ha come dire messo un po' a focus nitido quelli che sono i punti di forza e le aree di miglioramento del paese e con questo mi da anche il link visto che stiamo andando in chiusura per un'ultima domanda che solitamente abbiamo fatto a tutti gli ospiti e prendo la domanda di Casia dice quale conseguenza chiede la collega quali conseguenze può avere nell'età adulta la mancanza delle esperienze sentimentali nell'età adolescenziale e unisco a questo dal suo vertice di osservazione qual è anche lo scenario dei mesi a venire per questi adolescenti unitamente appunto alla ripercussione io penso che noi dobbiamo avere molto presente che le tracce ci saranno ci saranno non soltanto nei mesi ma negli anni perché questi ragazzi non hanno ormai parliamo di un anno che diventerà un anno e mezzo di sicuro non hanno potuto vivere delle esperienze e dei riti di passaggio che fanno parte delle nostre adolescenze e che servono a crescere allora se io non ho vissuto una certa cosa che sarebbero i miei 60 anni non ho potuto festeggiarli bene va bene festeggerò i 61 non li ho fatti è uno scherzo però per dire da adulta non aver vissuto e festeggiato i 18 con i propri amici l'esame di maturità le vacanze della maturità i primi amori sono qualche cosa che non posso recuperare perché i 18 anni si fanno una volta con i loro significati allora noi dobbiamo avere presente che avremo una generazione che dovrà essere accompagnata a recuperare in un modo diverso quindi non le stesse cose dei riti che gli consentono di dire che sto crescendo il passaggio l'ho fatto lo stesso perché quei riti classici molti di loro non li hanno avuti chi non avrà avuto relazioni sentimentali per un anno un anno e mezzo è chiaro che diventerà comunque un adulto che avrà le sue relazioni però dovremo tenere presente che forse ci arriverà un po' dopo che forse non avrà potuto sperimentarsi con quella freschezza con quell'ingenuità con quel anche su quella superficialità buona anche quegli errori esatto con tutti gli errori che a 15 anni riesco a fare già a 17 forse non mi consento più eh sì sì e quindi dobbiamo averlo presente noi però noi adulti perché loro sono dentro questa cosa qua e se faranno più fatica non è che riusciranno subito a capire perché la stanno facendo starà a noi recuperare questi aspetti perché le tracce purtroppo ci saranno a noi psicologi facilitare auspicabilmente insomma questa transizione assolutamente allora ringraziamo di cuore la professoressa Confalonieri per questo stimolante incontro e prima di salutarci vi ricordo che giovedì diciotto questo giovedì sempre alle diciotto abbiamo il quarto incontro del ciclo parleremo di alimentazione e adolescenti in questo periodo covid lo faremo con la dottoressa Francesca Baggio e grazie ovviamente al prezioso contributo e supporto di Franco Angeli che ha permesso di organizzare questo bel ciclo di incontri quindi professoressa grazie di nuovo grazie mille a voi buon lavoro a tutti buona serata allora a tutti ci vediamo arrivederci